nel cuore del piemonte accanto alle traiettorie tracciate dai vini più conosciuti al mondo si estende il torinese un territorio variegato che conta ben sette denominazioni dalla sempre più amata di ocg erbaluce di caluso alle doc carema canavese freisa di chieri collina torinese pinerolese e valsusa una successione di vigne e territori che tra colline valli e montagne racchiude come una corona reale il capoluogo piemontese torino doc progetto della camera di commercio del suo laboratorio chimico vuole favorire la conoscenza e valorizzare la produzione vinicola di qualità di questo territorio la nostra commissione di tecnici ed esperti degustatori giudica i vini delle quattro aree di riferimento la collina torinese la valsosa il canavese e il pinerolese la selezione segue il metodo alla cieca prevede diversi giorni di degustazione e decine di sedute di assaggio garantiamo trasparenza e imparzialità di giudizio grazie all'attenta organizzazione di tutte le fasi dal prelievo alla degustazione in forma anonima fino all'attribuzione dei punteggi tutti i risultati sono riportati sul sito torino doc.com e sulla guida carta cea a disposizione dei professionisti del settore wine and food e del pubblico di appassionati o anche di semplici curiosi grazie alla curata selezione il progetto torino doc racconta vitigni coltivati in panorami noti ma anche in luoghi protetti e nascosti e valorizza prodotti di qualità sia ad ampia diffusione che di nicchia accanto alle produzioni più conosciute infatti sono tanti i vigneti eroici di montagna con uve rare e insolite che si stanno facendo strada si tratta di una gamma di grande qualità capaci di esprimere nelle diverse vinificazioni dallo spumante al passito aromi tonalità strutture ed emozioni che raccontano questo territorio e la sua vocazione sul sito torino doc.com puoi ricercare tutti i vini selezionati in modo autonomo oppure accedere direttamente al nome dei produttori o ancora scegliere più fattori e incrociarli online sui social e sulla guida cartacea troverai anche cocktail ricette suggerimenti per servire e abbinare i vini al meglio e se sei interessato ad una visita in azienda trovi la cantina segnalata sulla mappa un motivo in più per una gita nel torinese anche sui percorsi proposti dalla strada reale dei vini turino doc ti invita a conoscere le sue aziende e a visitarle ogni etichetta infatti porta con sé la storia del territorio in cui è nata e l'impegno la cura la dedizione quotidiana delle persone che stanno dietro ad ogni bottiglia puoi trovare le etichette torino doc anche all'enoteca regionale dei vini della provincia di torino in ristoranti ed enoteche nei locali che propongono cocktail creati apposta dai più famosi bartender e nei principali eventi enologici gusta appieno l'eccellenza torinese chiedi un vino turino doc grazie grazie